Benvenuti da questa mostra Chagall Love and Life, una produzione di DART, di Ostro del Dramante, insieme ad Artemisia Group. Questa mostra nasce dalla collaborazione tra il DART e Artemisia Group con l'Israeli Museum di Gerusalemme. Il poeta e il sognatore Chagall, prima del suo essere ebreo, ebreo errante, ebreo nostalgico, capisce e desidera fin da più o meno essere un artista. Aspira a questa fantasia e sfidando una cultura, una cultura iconoclasta, riesce a realizzare questo suo sogno. Amore, vita, cultura israeliana, queste sono le parole con cui è stata introdotta nella bellissima ambientazione del Clostro del Diamante la mostra dedicata al grande pittore Marc Chagall. Ed è qui che noi vogliamo portare oggi il pubblico di CNA Web TV al suo interno. Ma prima di entrare, che cosa c'entra allora di Israele con Chagall? E soprattutto, perché l'ambientazione biolustica costante all'interno dei suoi disegni, dei luoghi dove lui è nato? E che cos'è l'amore per il maestro? Entriamo e domandiamo alla curatrice, la dottoressa Sorek. Siamo con la dottoressa Sorek, curatrice della mostra dedicata dal Chiostro di Bramante al pittore Marc Chagall. E per entrare in media stress, andiamo subito a parlare del tema principale, l'amore e la vita. Cos'è l'amore per un pittore come Chagall? Ricordiamo, legato alle sue compagnie, soprattutto alla prima moglie. Quando parliamo di amore, noi parliamo per Chagall, parliamo in particolare dell'amore che ha avuto per Bella il suo primo grande amore e che morì anche in età giovanile. La sua morte fu improvvisa e prematura. L'amore per lui è diventato qualcosa, una forza, una forza che l'ha portato avanti e che lui ha ricordato per tutta la sua vita. Sappiamo tutti che Chagall è un pittore di origine e cultura ebraica, in particolare la cultura yiddish. Lui nasce appunto nell'impero russo, una zona che corrisponde all'attuale per russa dove si parlava l'ydish, che è la lingua che appunto sottolinea gli ebrei. Ashkenaziti, vogliamo domandarle appunto l'importanza di queste due culture, sia quella russa, che quella ebraica per Chagall, che appunto interagiscono nella sua pittura. Lui è stato effettivamente un artista internazionale al di là di una semplice cittadinanza e ha vissuto in un secolo in cui ci sono stati dei cambiamenti politici molto radicali che hanno causato dei cambiamenti o hanno creato dei segni molto particolari su di lui come artista. Chagall ha dovuto vivere per varie vicissitudini in vari paesi, a Parigi, a Berlino e poi negli Stati Uniti e ha portato sempre con sé la sua origine ebraica, la sua cultura ebraica e ha cercato di unificare questi concetti che lo hanno accompagnato dalla sua infanzia fino alla fine della sua vita e cercando di integrarli nella sua cultura internazionale. È riuscito sempre a portare degli elementi nel suo mondo artistico e gli elementi particolari sono quelli dell'amore e l'amore è amore per la sua terra d'origine, quindi per la sua città natale, il suo paese, per la famiglia, per la sua donna e per l'arte. Quanto è attuale oggi il messaggio che Chagall ci dà sia dal punto di vista dell'amore per la donna e per la sua cultura ma anche dal punto di vista di questa ricerca in se stesso dell'anima che lui sottolinea? Io cercherò di spiegarvi fino a che punto Chagall è ancora attuale, sono molto contenta che finalmente oggi possiamo aprire questa mostra qui a Roma, però oggi ho visto nella stampa israeliana e che si parla di Chagall e di un momento in cui negli anni Sessanta fu aperto il Museo di Israele. Ancora oggi la sua immagine campeggia nel Museo di Israele, il Museo di Israele sta festeggiando 50 anni nella sua nascita e lui faceva parte del comitato di fondazione di questo museo e questo può farci capire anche 30 anni dopo la sua morte quanto lui sia stato importante. Ci apprestiamo a lasciare la mostra di Chagall, abbiamo parlato di cultura ebraica della terra bielorussa da dove il grande maestro proviene e che ricorda spesso i suoi disegni. Abbiamo parlato dell'importanza di questa cultura, non a caso infatti Chagall è uno dei padri fondatori, come abbiamo già ascoltato, dell'Israel Museum da cui la maggior parte le sue opere provengono perché appunto sono state donate a quel museo. vogliamo lasciarvi con una riflessione che ricorda il concetto base, uno dei concetti basi della pittura dell'arte di Chagall, l'anima, la chiave di cui ha bisogno l'uomo per entrare in quest'anima e discutere e comprendere i temi principali, in questo caso l'amore e la vita. Una chiave che può essere ancora attuale, ancora o di giorno, è sempre utile riflettere e collocare noi stessi nel nostro contesto, nella nostra realtà. Restate con noi.